ma se ci sei abbiamo 6 secondi alla partenza io ho preso lo specialist leader io ho preso il disegno di maskman perchè amo lebre li hai presi il viso notturno no 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 che stai stai dimenticato beh niente si gioca così vabbè tanto è solo un punto per noi per fortuna allora io direi che ci spostiamo in modo tattico ma se non vedo niente ok l'idea è però di stare uniti comunque allora vieni con me qua sul fianco destro o vuoi passare sul sinistro no 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 mi piace come stai andando ok andiamo allora ok infiliamoci qua dentro magari saliamo i piani alti ok potrebbero già essere qui ok sono già su bravo aspetta allora ma si è dietro la carcassa della macchina ma se ho sparato caso io non ho granate te lo dico ma se non è sdraiato sinistra dell'ambi è sdraiato sinistra dell'ambi sto salendo sopra sono sopra ah 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 cosa, tolgo lo smoke. Perfetto, ci sono. Ah, io non ho granate. Come che lo attivo? B, perfetto. Con B, con B, con B. Sì, sì, ci sono. Siamo tattici, Massi, siamo tattici. Massi, io sono nelle spalle. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho tolto il visore perché ci vedo meglio, senza qui. Però non vedo nessuno. Sdraio. L'ho preso, Massi, l'ho preso. Io striscio verso B, striscio verso B. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Spice, dove è l'altro? Eh, non lo so. Sono tutti e due superavo. Eh, aspetta, ci sto avvicinando sdraiato. No, ci sono andato io. Superavo, ci sono io, superavo. Sì, ma io dall'altro lato. Sono tra l'anfì e la macchina. Eh, io non lo vedo. Forse è sul fianco destro, magari pensavo allo giramento che mi hai fatto prima. Ah, lì c'è quello morto per terra. Sì, io sono su quello morto, ma sì. Ok, fianco destro. Mi vedi? Cacchio, dove sono? Io sono in un agolo. Cacchio, non li vedo. Beh, vabbè, vabbè, fin... Oh, è qua! L'ho preso! Bravo, bravo. Beh, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Tattico, stavolta è tattico. Bene, 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 tattico. Continuiamo così, direi. No, vabbè, no, vabbè. Sono sceso e non potevo sparare. No, vabbè, no, no, no. È stato bellissimo. No. Questo pareggio, Massi, si fa... si fa spicy. Cerco di andare centrale e a tenere d'occhio il punto. Ok, sto facendo tutto estrema a sinistra. Ok, vedo Massi. Cazzo, mi ha visto! M'ha visto. E quindi sono là in due? No, c'è qua uno. Che subì, non vedo nessuno io. E qui? Uh, Massi, qua, qua, qua è la situazione spicy perché lui mi ha visto salire e secondo me si è buttato giù. Sì. Guarda me. Ok, da te so, ma dove è morta? Cioè, lì da te c'è, ne uno l'altro. Sì. L'altra stava dall'altra parte, oppure starà venendo qua da me. Era giù, eh? Era pieno di sotto. Poi scomm'è salito, comunque sulle scale. Sì, sì, è pieno di sotto. Porca vacca! L'ho trovato. Ok, ok, ok. Vedete di trovare un visuale sul fianco di B? Così gli secchi quando ci vanno. Ecco, già lì è tattico. Dovrebbe arrivare da lì, forse. Carre, probabilmente. O Levro, non so chi, di quello che è passato sul fianco. Secondo me l'altro sta tenendo sott'occhio il punto. Così, appena uno di noi ci va. Eh, sì, sì. L'ho trovato. Aspetta che sono... Ok, vedo la città. Vedo, cioè, vedo tutto il punto, vedo. Charlie è sotto attacco. No, sei su Charlie. Ma che? Ma che? Ma come si permette? Uh, prendi Charlie così. Giusto. Sei spicy boy. Sì, però adesso non è un panico totale. Trovo la posizione più in copertura, ma se ti puoi, non ti cerco il frigo. Ok, loro ci prendono l'Alpha, dai, ci sta, ci sta. Sì, ma magari solo uno e l'altro mi sta venendo a cercare. Possibile. Però qua la prendi prima te, se riesci a prenderla prima di loro, io spawno e li vado a prendere su A. Giusto. Perfetto. Bene, molto bene. Allora, ho fatto respawnare Fawd. Massi, secondo me. Great, vincuca Alpha! Cosa? Come stanno attaccando Alpha? Sto attaccando Charlie, ora! Sto attaccando Charlie. Uno è morto. Bravo! Madonna, che mi sono cagato addosso, mi è corso in faccia. Tu non hai idea della paura che io vedi. L'altro... No, ma sentimi i passi. L'altro dove va? Sono qua. Dove sono, amichetto? Sono da te. L'ho preso! Sì! Mamma! Mamma mia! Attenzione, portezione! Ottimo giocato a Massi, ti hai preso Charlie nel culo. Bene, bene, bene. Questa è andata bene. Andiamo rapid fire, rapid fire. Andiamo, andiamo, andiamo. Come prima, vabbè che te lo sanno che giri da lì, ma a me non mi hanno sgamato che ho girato da... Cioè loro l'ho trovato su C, ma... O cambio direzione, oppure posso provare a venire anche io con te su... Eh dai, prova anche tu, prova anche tu. No, provo a lasciare B, provo a lasciare B, dai. Ah, ok, va bene. Ne ho visto uno passare e ricorre là in fondo, occhio. Ah, ok. Perché io vorrei sempre salire sul palazzo qua di fianco. Aspetta che non riesco a coprirti bene così. Ok, ne ho visto uno. Sto guardando a destra io, eh. Non vedo la sinistra. Ne ho visto uno. Una granata. Cazzo. Ne ho visto uno. Adesso ha sparato, però non è morto. È qua, Massi, sono qua. Eh, sì, contestano, Massi. Cazzo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Dov'è? Come ci si passa? Lì. No, 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 no. Ma dov'è, dov'è? Ma l'ho mostrato lì che... Che... Ma... Ho trovato l'altro. Grande, Massi. Vai così. Mamma mia. Porca vacca. Era una scossa di tre macchina. Porca vacca. È il migliore solo perché ho conquistato, non è vero. Ok, però mi piace sta tattica. Perché loro hanno provato a fare un giro diverso. Così ne inchiappete tutti e due. Perché non ne ho capito, vedo vero. Signori. Un successo, un successo. E a questo punto ci ricontruggiamo con gli altri. America, America triunfa sempre. Ma... Vi è andata solo bene, vi è andata, vi è andata solo bene. Signori, che great match. Great match. Chi è venuto a prendermi su C nella seconda partita? No, aspetta, aspetta. Concludiamo questa registrazione, signore. È stato... Un onore. Un'ottima partita. Un'ottima partita. Tutta fortuna. Ci sarà la rivincita. Tutta fortuna. Non è per bravura che avvino, ma per fortuna. Diteci se volete la rivincita. Grazie, grazie, ferma registrazione, ciao.